Il governo Schifani ha spedito a Bruxelles la programmazione della spesa dei fondi europei 2021-2027. Si tratta di 5 miliardi e 800 milioni di euro. Giuliana Viciche. Il governo Meloni ha appena inviato la manovra di bilancio alla Commissione europea e da oggi inizia l'esame in Parlamento. E dalla Sicilia il governo Schifani ha altrettanto spedito a Bruxelles la programmazione della spesa dei fondi europei 2021-2027. Si tratta del quando e del come utilizzare 5 miliardi e 800 milioni di euro. Il documento di previsione ha subito dei ritardi nel biennio 2020-2021 a causa della pandemia Covid. Adesso con un proprio decreto l'assessore regionale al territorio ambiente Elena Pagana ha sbloccato il parere di valutazione ambientale sulla programmazione del piano che avrà un impatto strategico sulle economie dell'isola regolamentando i vari ambiti e assegnando specifici compiti in materia di tutela dei territori con il rispetto di misure e strategie ambientali da osservare per la salvaguardia e lo sviluppo sostenibile di tutte le aree interessate dal piano di programmazione. E il presidente della regione Renato Schifani afferma E' l'ultimo atto di competenza regionale che conclude un iter complesso consentendo alla Sicilia di avere ogni strumento utile per governare le scelte dei prossimi anni e produrre sviluppo in ogni ambito seguendo quei criteri di protezione ambientale stabiliti a livello europeo. Una vera e propria finestra sul futuro. E l'assessore Pagana ha aggiunto Le misure a tutela dei territori, nelle loro varie specificità, rappresentano un ulteriore impulso nel percorso tracciato dalle normative comunitarie che pone l'ambiente in cima alle priorità della programmazione 2021-2027. Ora aspetterà proprio alla Commissione europea procedere all'approvazione di quanto abbiamo definito. E' un atto che attendiamo con fiducia, certi della qualità del lavoro svolto a vario titolo in sede regionale, conclude. E in tale contesto rientra anche il progetto di costruzione del ponte dello stretto di Messina, rilanciato con determinazione dal governo Meloni che si appresta a chiedere i fondi all'Unione Europea. In particolare il ministro Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, chiederà le risorse per finanziare la costruzione del ponte in occasione del Consiglio dell'Unione Europea dei Ministri dei Trasporti in calendario lunedì prossimo, 5 dicembre, a Bruxelles. Nel frattempo, ancora nel merito del corridoio Sicilia-Calabria, il gruppo della Lega al Parlamento europeo ha votato a favore di un emendamento ad hoc per inserire il collegamento stabile tra Villa San Giovanni e Messina, tra i cosiddetti missing link ferroviari e stradali da finanziare.